Buonasera, ciao a te, a me tutto a posto, a te? E' finita la vacanza, visto? E' finita la vacanza e' finita la vacanza. Noi di dire, ma dovessi che vede tipo posto? Non lo so, credo che venghi c'è. Vabbò, ne ho? Ok, allora ci andiamo domani. Sì sì, va bene, va bene. Ah, va a bocciatele, catele. Oh. Non ci capite? È lo staglio. Ah, no, che sai, ci capite? No, dico, mo' è lo staglio. Mo' ha lo staglio. Ah, va a me, ma è lo staglio. Ah, no, a Genova, no. Eh, che levano un chilometro a loro, per forza. Eh, sì, mia, va a bocciare un buon pranzo, cioè, cioè. Eh, sì. Oh. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì.